Sindaco, Francavilla è diventata un po' la seconda casa della Nazionale di Paraciclismo, questo ritiro in vista di importanti appuntamenti ancora nella vostra città? Sì, li ospitiamo dal 2014 e per noi è motivo di grande orgoglio ospitarli, averli qui sulle nostre strade, nel nostro territorio, sono proprio motivo di forza, di grande determinazione, quindi noi da loro dobbiamo solo prendere esempio. Francavilla, città anche a vocazione sportiva oltre che turistica? Assolutamente sì, vogliamo mantenere questa vocazione, partiremo anche con gli internazionali di tennis, ci stanno organizzando anche per questa manifestazione, quindi sono anche eventi che oltre a dare l'esempio ai ragazzi di disciplina e di determinazione portano movimento, portano turismo anche al di là del periodo proprio prettamente estivo. Questo ormai è un appuntamento fisso, ormai è dal 2014 che ci ripetiamo, credo che sarà un appuntamento anche futuro perché abbiamo un'amministrazione comunale che abbraccia in pieno queste iniziative e non solo, quindi ogni anno saranno molto contenti di venire e comunque poterci allenare in strade meravigliose, sappiamo bene che il territorio si presta bene per questa attività. Vogliamo un attimo illustrare, Pierpaolo, quali saranno i prossimi appuntamenti della nazionale? Allora, l'appuntamento più imminente, ci sarà una gara, la prima tappa del Giro d'Italia proprio domenica a Bari, poi dopo si passerà una gara internazionale a Marina di Massa e poi due appuntamenti molto importanti, due gare di Coppa del Mondo, una in Belgio e un'altra in Germania e fine maggio ci saranno i campionati europei in Austria. Per me a Francaville è la seconda volta, l'anno scorso mi ha portato molto bene perché poi sono riuscita a qualificarmi per Tokyo e a portare a casa una bella medaglia per l'Italia, di nuovo quest'anno qua insieme a tutti questi splendidi ragazzi e grazie all'occhio attento del nostro CT e dei nostri collaboratori che non ci mollano un attimo ci stiamo preparando insomma per i prossimi eventi che quest'anno ha parecchia carne al fuoco e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio nel miglior modo possibile.